Abbiamo l'altra faccia della medaglia di un 13-0, un impietoso 13-0 visto dagli occhi del portiere dei Lombardi, Cribio Jacopo, si candida come miglior uomo partita per la propria squadra, come ci si sente essere il migliore in campo con 13 gol al passivo? Vabbè, 15 gol li ho presi ma non è per capita, noi siamo qua per divertirci e poi ho cercato di fare il meglio, magari se non c'ero io c'erano 20-20 L'atteggiamento è quello giusto di puntare a divertirsi e imparare a giocare sempre meglio Purtroppo un primo girone che vede i Lombardi come fanalino di coda, purtroppo con 0 punti ancora, si spera nell'ultima giornata per magari riuscire ad andare in Europa League o ormai volete andare in Mitropa? Perfetto, allora buona continuazione della Coppa ai Lombardi e buona partita Cribio Jacopo